Avrete notato da questo video che non faccio nessuna pretrazione. La pretrazione anche negli archi olimpici, se vi andate a vedere i top archery, i top di gamma, diciamo così, non fanno più pretrazione. Non c'è più il setup in pretrazione, non esiste più il setup in pretrazione. E' tutta una dinamicità in cui i punti di controllo sono poi stati ridotti. Quindi ad alto livello, o comunque a un buon livello, è inutile mettersi in questo modo, fissare il punto da colpire, sentirsi, tirare, tirare, ma perdiamo tutte le nostre catene cinetiche. E' molto meglio fare questo movimento all'altezza degli occhi, scendo, sempre guardando il giallo, e rilascio la mia freccia. Poi sulla questione, la questione mira, l'abbiamo già detta e vista mille, mille, mille volte, però tengo a dirvi che il braccio dell'arco non deve essere rigido. Ok, lo vediamo ancora una volta, magari lo vediamo in questa posizione. Abbasso l'arco, lo rialto, sono in ancoraggio, espansione, mira, mantenimento, rilascio. Il braccio a questo punto si è rilassato. Provate e scrivetemi nei commenti se ha senso quello che vi ho detto, se vi ritrovate, se avete dei miglioramenti. E noi possiamo discutere tranquillamente, tranquillamente insieme. Ok, a presto. Grazie. Grazie.